Ed eccoci qua, vicino a lei, al mio cavallo di battaglia ispiratrice, fra l'altro di tante cose, la Miss Linda. Linda, è la prima volta che noi lavoriamo insieme, cosa puoi dire di questa esperienza? Meravigliosa, non posso dire altro, mi sono trovata benissimo, mi hai messo a mio agio, tu lo sai che io sono una persona molto timida, anche se non sembra, però sono stata veramente a mio agio e poi in mezzo ai colori si sta sempre bene. Grazie Linda. Io posso andare adesso, grazie a tutti di vero cuore, è stato un divertimento e ci vediamo il 15, il 15 di febbraio. Grazie Linda, un bacione, ciao more.